Qui abbiamo una collezione di margherite colorate da cui siamo partiti per cominciare a fare anche miglioramento genetico per varietà colorate, nuovi tipi a varietà colorate. Dalla parte opposta della Serra infatti si possono vedere già i nostri primi cloni e questa è una collezione invece che abbiamo reperito presso vari grossi vivai che fanno appunto moltiplicazione di margherite. In questa parte di Serra abbiamo le nostre ultime varietà brevettate cioè Simona, Martina, Giorgia e Irma. Ciascuna di loro è adatta a una certa tipologia di vaso, dal vaso più piccolo che è il vaso 10 al vaso 18 e superiori. Ecco la varietà Martina è quella più piccola ed è quella più adatta al vaso 10, poi però si riesce a fare anche un vaso del 14 che è un vaso medio e questa si chiama Irma. Attualmente la mia varietà preferita è proprio questa Irma perché è stata un po' un'innovazione anche nel suo genere, appunto così piccola, così adatta, addirittura fanno anche i vasettini più piccoli di questo e comunque è quella che diciamo sta andando di più nella coltivazione della piana di Albenga, anche se è ancora una nicchia diciamo, però cominciano ad esserci gli affezionati sia come coltivatori sia come consumatori. Con Roberta e Irma vi salutiamo dall'Istituto regione africoltura e ringraziando anche la direttrice, vi aspettiamo per le giornate di apertura ma anche e soprattutto Irma vi aspetta per casa vostra.